Apre i battenti il Motostar 2000, torneo di calcio a 5 organizzato dalla Cosmos Eventi presso il circolo sportivo Olivi Village di Via della Pisana. Presenti gli organizzatori e i responsabili dei team iscritti a cui sono state assegnate le divise ufficiali per questa stagione. Già dalla festa di presentazione si prospetta un torneo abbastanza grande, molto grande. Le nostre aspettative sono quelle di far divertire tutta la gente in modo tale che comunque possano ambire a tanti premi. Noi cerchiamo sempre di dare il meglio in base all'organizzazione, agli arbitri che comunque mandiamo e comunque alla nostra cordialità che è sempre al primo posto che va oltre il torneo. Il 90% è comunque grazie ai sponsor che hanno contribuito ad essere un torneo molto grande, un torneo che comunque ha portato tante squadre. I favori sono gli amici del Real Madrid, gli amici del Newcastle, gli amici del Manchester City. Comunque gente molto brava, forte e che si può far vedere in questo torneo in maniera sia positiva tecnicamente ma anche positiva caratterialmente. Tre gironi da otto squadre ciascuna, Premier League, Liga e Bundesliga, con coppe nazionali connesse. Le prime quattro classificate di ogni girone competeranno per la Champions League, mentre dal quinto all'ottavo posto ci si qualifica per l'Europa League. Ad ogni Liga poi la sua Supercoppa, disputata tra i vincitori del girone e quelli della Coppa Nazionale. Allo stesso modo i vincitori di Champions ed Europa League si incroceranno in Supercoppa Europea. Pensiamo che l'importante sia partecipare in questo torneo perché è una bellissima occasione per stare insieme, un'occasione di sport e divertimento e quella è l'importante. Torna organizzata abbastanza bene, in maniera molto seria, sembra abbastanza competitivo anche. Faremo nel nostro meglio per vincere, poi entriamo in campo sempre col pensiero alla vittoria, poi vedremo quello che possiamo fare. Per il titolo di campione europeo, fra i favoriti Real Madrid, Manchester City e Newcastle, 15.000 euro il ricco montepremi del Motostar 2000 ai nastri di partenza, Lulivi Village accende le luci sul calcio A5, Fanner lo racconterà a modo suo e fidatevi, ci sarà da divertirsi.